È una grande occasione per far conoscere agli italiani e all'estero le risorse che abbiamo, energetiche, le nostre risorse culturali, per creare lavoro e per mettere in sicurezza il nostro territorio. Quello che uscirà da questa settimana sarà sicuramente maggiore consapevolezza per i cittadini italiani e spero anche per i cittadini residenti all'estero, a cui io comunicherò questo evento scrivendo ai presidenti dei parlamenti europei e degli altri parlamenti degli altri paesi del mondo per poter venire a vedere con questa occasione quali sono le bellezze dell'Italia e le occasioni di lavoro che si possono creare.